Gio Ponti era un architetto italiano e ha disegnato in ambiti vari che spaziano dal disegno di oggetti a edifici differenti per dimensione, destinazione e ubicazione. Considerava il processo progettuale come una generazione in cui la committenza la funzione del padre, al progettista che articola le forme, quella della madre. Nel 1950 riceve da Alberto Pirelli l'incarico di progettare la sede direzionale dell'omonima ditta della gomma. Era da costruire a Milano in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale. Ponti disegna un edificio a torre, un grattacielo che per alcuni anni sarà il più alto edificio d'Europa e lo disegna l'italiana. Invece del metallo, impiegato da sempre per i grattacieli negli Stati Uniti, usa il cemento armato. Affida la struttura a Pierluigi Nervi che da anni studiava come ottimizzare il cemento armato sia per le sue caratteristiche fisiche sia per la fisica delle forme realizzate. Lo scheletro della torre si assottiglia salendo. Di lato, quelle che sembrano due lame, sono i lati di un contraforte triangolare. Al centro c'è la torre degli ascensori e, tra questi e i contraforti, due muri al piano terreno che, salendo, si dividono in pilastri. Il taglio tra le lame laterali, la pensilina in copertura, danno a uno tra gli edifici in cemento armato più alti del mondo un aspetto di solida leggerezza.